salve amici in questo video farò una classifica delle 10 forze aeree più potenti del mondo aggiungo un grosso secondo me ma le fonti sono ufficiali quindi lasciatemi un commento se siete o non siete d'accordo con la mia classifica o anche per farmi sapere cosa ne pensate si accettano anche richieste per i temi dei prossimi video il canale sta crescendo e un grazie di cuore a tutti per il sostegno e per chi è nuovo qui vi invito a iscrivervi e a lasciare un mi piace in modo da restare aggiornati per chi non mi conosce mi presento sono enrico pilota civile e appassionato di storia militare e questo canale sarà dedicato a curiosità sui temi di aviazione storia e tattica militare senza farci mancare azioni di simulazione aerea e spunti di cinema e fantascienza ma che comunque non saranno mai lontani dal tema aeronautico o aerospaziale allora torniamo al topic di questo video premetto che per stilare questa classifica mi sono basato su quello che viene definito comunemente potere aereo cioè la capacità di una nazione di difendere il proprio spazio aereo o al limite di invadere quello altrui quindi è una sorta di compromesso fra difesa e attacco per esempio una nazione che ha solo missi di balistici come la corea del nord con una aviazione del tutto antiquata non può rientrare in questa classifica mentre una nazione piccola ma con degli assetti adeguati e moderni seppure in numero limitato può di fatto entrarci però vi ragioni ho escluso la componente nucleare perché non serve dirlo in uno scontro nucleare non vince nessuno per semplificare quindi se la classifica si basa solo potere aereo farò riferimento alla punta di diamante di ogni nazione e cioè il tipo di aerei da interdizione e in multiruolo e il loro numero bisogna ricordare però che senza elicotteri bombardieri aerei da trasporto e mezzi e uomini a terra navi sottomarini e tutto il resto i caccia non avrebbero motivo di esistere iniziamo al decimo posto abbiamo due paesi a pari merito l'australia con una novantina fra f18 e f35 conta inoltre una vasta flotta di aerei logistici e da guerra elettronica a pari merito abbiamo il canada una novantina fra f18 e altrettanti f35 con una vasta flotta logistica entrambi i paesi a partire dal secondo conflitto mondiale sono stati sempre continuamente impegnati in missioni di peacekeeping salendo di un posto in classifica abbiamo al nono posto l'india con un arsenale misto fra rafal su 30 e mig 29 di circa 200 unità paese emergente in questo contesto il fatto di avere un arsenale misto che può contare su tecnologie europee e russe sicuramente gioca a suo vantaggio all'ottavo posto abbiamo la turchia con 250 f16 e 48 f4 l'f4 phantom seppure aggiornato è un aereo datato ma dobbiamo considerare che la turchia a contrario delle apparenze è un partner americano quindi può contare sul supporto gli scudi missilistici e appunto l'f16 che parla da solo all'ottavo posto abbiamo gli emirati arabi paese fortemente supportato da stati uniti ma in particolare dall'unione europea con circa 250 unità fra f16 rafal e mirage 2000 logistica e pattugliamento marittimo e guerra elettronica al settimo posto la corea del sud in realtà al settimo posto al sesto e al quinto posto abbiamo tre paesi fortemente supportati dagli stati uniti con tutto quello che ne consegue da un punto di vista logistico scudi missilistici e basi la corea del sud al settimo posto conta 200 fra f16 ed f15 più una quarantina di f35 oltre a una nutrita schiera schiera di aerei più vecchi e guerra elettronica il giappone al sesto posto con le forze di autodifesa conta 200 f15 di cui alcuni costruiti su licenza dalla mitsubishi e 70 f16 123 f35 ordinati e in consegna più awax e guerra elettronica e pattugliatori marittimi e non potrebbe essere diversamente visti i vicini che si ritrovano al quinto posto abbiamo israele 84 f15 25 strike e goal quindi un centinaio di f15 nelle versioni multiruolo e da superiorità aerea più 175 f16 e 75 f35 ordinati e in consegna in sostanza per essere una nazione così piccola come potere aereo non c'è davvero niente male e merita sicuramente il quinto posto in questa classifica il quarto posto invece è una vera e propria sorpresa e non ve l'aspetterete ho deciso di posizionare la russia al quarto posto di questa classifica con la sua flotta imponente se consideriamo i numeri 27 scusatemi 22 su 57 che sarebbero gli aerei di nuova generazione russi 118 su 35 150 su 34 113 su 30 350 su 27 273 su 34 130 mig 31 240 mig 29 e via così con un'altra serie infinita di bombardieri piccoli e medi a corto raggio lungo raggio più ovviamente aerei per la logistica pattugliamento awax eccetera eccetera la flotta russa almeno nei numeri risulta imponente tuttavia stime realistiche potrebbero ridurre l'effettivo di circa la metà se non di più senza considerare il logoramento e le risorse perdute in due anni di conflitto la sua posizione si considera quindi solo sulla base dei numeri ma se devo dirla tutta avrei preferito metterla in settima posizione ma siccome sono allergico al polonio il quarto posto va benissimo il terzo posto di questa classifica quindi va alla cina con 500 unità simili al mig 21 aerei del tutto diciamo obsoleti ma 500 comunque è un gran numero un centinaio fra su 27 e su 30 e su 35 e poi tutta una serie di velivoli costruiti in cina su licenza che sembrano le brutte copie di aerei russi o di aerei europei 500 j10 225 j11 250 j16 210 j20 proiettano insomma questi numeri proiettano la cina al terzo posto sicuramente non ha i problemi di manutenzione logistica che ha la russia quindi da un punto di vista numerico possiamo considerarla di capacità effettiva al terzo posto di questa classifica il secondo posto e il primo posto di questa classifica sono realtà contesi non sono proprio predefiniti e vorrei che stassero così al secondo posto il mio modesto parere qui penso che si aprirà un dibattito lo guadagnano gli stati uniti gli stati uniti hanno due forze fondamentali quindi l'usa air force e l'us navy che operano in modo diverso e a volte indipendente se l'us air force è deputata alla difesa del territorio nazionale l'us navy generalmente si occupa delle missioni all'estero ma per quello che possiamo vedere la loro esperienza quasi sempre si è sempre applicata in situazioni di conflitto asimmetrico per cui se dobbiamo considerare il potere aereo degli stati uniti per la difesa probabilmente meriterebbe il primo posto se dobbiamo considerare invece il confronto degli stati uniti in una situazione di attacco contro paesi come la cina l'europa o la russia dovremmo ridimensionare tutto quanto comunque i numeri degli stati uniti sono imponenti 2700 aerei in totale più tutti quelli insomma per quanto riguarda la logistica bombardieri ma se prendiamo agli aerei di punta solo l'air force conta 363 f35 178 f22 190 f15 200 f15 e un migliaio di f16 e poi c'è l'us navy con 600 f18 45 f35 150 f18 della guerra elettronica proiettano sicuramente la usa al secondo posto della classifica al primo posto di questa classifica ha voluto mettere l'europa con l'europa air group sicuramente è un progetto di collaborazione internazionale che mette insieme le forze aeree di più stati che già da parte loro se presi singolarmente sono abbastanza forti da meritare fra i quinti il quinto il sesto e il settimo posto di questa classifica se prendiamo per esempio l'inghilterra la spagna l'italia la francia presi singolarmente rientrerebbero tranquillamente all'interno di questa classifica se mettiamo insieme questi paesi di sicuro abbiamo probabilmente la forza aerea più forte del mondo l'europa può contare con un totale di 1500 top fighters quindi i migliori caccia che ci sono attualmente in circolazione 463 euro fighter 358 f35 224 f16 200 fra rafal mirage 2000 80 f18 90 griffen 150 tornado nelle varie versioni quindi insomma è una forza di tutto rispetto se consideriamo poi che la tecnologia europea non ha niente da invidiare a quella americana quindi questa è la mia classifica fatemi sapere cosa ne pensate lasciatemi un mi piace e iscrivetevi al canale grazie 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 grazie